e il 19 novembre del 2022 sono le 6 e 30 in cielo ancora c'è la mezzaluna e tutto intorno a noi nuvole rosa ieri è stata una brutta giornata con vento forte e pioggia stamattina si imbario si risveglia così con una giornata di sole è un cielo terzo meraviglioso un saluto a tutti a gg e da quest'autunno che sta diventando sempre più intenso ma che ci regala ancora giornate stupende